Qui in via Provenza, una via che purtroppo è nota, le cronache anche di molti anni fa perché lungo questa via, diversi anni fa, furono trovate anche due persone senza vita morte a causa purtroppo della droga, ma ancora oggi continua a essere un luogo dove ci si viene purtroppo a bucare. È una strada chiusa, è un parcheggio probabilmente utilizzato dai residenti della zona, ricordiamo che via Provenza si trova nel quartiere di Saione, è una strada che poi arriva qui senza sbocco, c'è la ferrovia accanto e guardate quante siringhe ci sono al di là di questa, come possiamo chiamarla, chiusura posticcia della strada, c'è questa struttura in metallo con un lucchettino e guardate quante siringhe ci sono con l'arco ancora attaccato, è impressionante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sembra il lancio chi la tira più lontana perché arrivano fino laggiù, guardate un po', è davvero impressionante. Tra l'altro abbiamo saputo anche da qualche cittadino che ci ha fatto questa segnalazione che sono stati avvistati anche i tossicodipendenti anche in pieno giorno che vengono qui a purtroppo farsi la loro dose quotidiana, ce ne sono tantissime, guardate ancora qua, il nostro Fabio Bianchini che ormai con me è un esperto del settore perché dove andiamo e dove purtroppo troviamo queste realtà nel 2016 ci sono ancora zone della città che sono diventate un deposito di siringhe incontrollato ma guardate quante ce ne sono, fino a qua anche qui a bordo muro e non solo perché le hanno gettate anche al di là proprio di questa, del confine proprio con la ferrovia, guardate un po', eccole là, vedete? anche lì, uulala, guarda là, insomma decine di siringhe gettate così per terra, è incredibile, è incredibile, un po' ovunque. Ci sono due cose da sottolineare ulteriori, la prima è più che altro curiosa, sapete cosa c'è al di là di questo muro? c'è la cosiddetta manutenzione del comune di Arezzo, quindi l'ufficio manutenzione con tutte le loro strutture, i loro mezzi, quindi tutto questo degrado, siringhe eccetera avviene proprio sotto il naso a lato della manutenzione, cioè dell'ufficio che poi dovrebbe intervenire qua per ripulire. E poi però c'è un'altra cosa purtroppo spiacevole perché sapete cosa c'è alla fine di questa strada? girando l'angolo sempre in via Provenza, purtroppo, purtroppo nel senso che sono a contatto con questa tristissima realtà, c'è un asilo, come tra poco vi faremo vedere. Quindi una zona frequentata da bambini che vengono all'asilo con i loro genitori è la stessa zona, perché qui c'è un asilo, è la stessa zona che è frequentata con questa frequenza dai tossicodipendenti che lasciano tutte quelle siringhe in quel modo incontrollato. Ora bisogna che il comune di Arezzo venga a ripulire quest'area e fare in modo che anche per la vicinanza dell'asilo ci sia un presidio, ci sia un deterrente perché i tossicodipendenti, e speriamo che non ci siano qui intorno anche spacciatori, di solito dove c'è il tossicodipendente lo spacciatore non è purtroppo lontano, ecco un deterrente che impedisca ai tossicodipendenti di arrivare in questa zona e di lasciare le siringhe in questo modo perché ne va della sicurezza del quartiere, dei bambini, dei genitori che lo frequentano, è una cosa che sostanzialmente è abbastanza inammissibile che possa accadere con questa facilità alla luce del sole. E allora ci auguriamo che chi di dovere intervenga presto. Ci vediamo domani.